salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura nuovo giorno e nuovi lavori da affrontare c'è già la coda lì alla sbarra vediamo un po se hanno aggiunto qualcosa no abbiamo sempre i soliti avvisi da dover andare a rispettare va bene iniziamo subito con il primo controllo venga avanti regolo il camion e vediamo che cosa porta all'interno soprattutto le merci da er che non devono entrare allora vediamo le gomme salve questa cosa di o porta questo salve se ciampulli maiali e quant'altro allora aspetti un attimo salve signore media i documenti vediamo un attimo da dove viene no questo è dalla casta quel meredetto del case intromette di nuovo in questione che non gli competono non solo diffamato pubblicamente il nostro governo ma danno anche malforte ai delinquenti vabbè questo è un suo pensiero signore io mi dissocio allora anton borison corrisponde anton borisov corrisponde 343 v u8 n 9 corrisponde tale nasce 11 febbraio so c'è 43 anni ma quello che cerchiamo mi pare che ne abbia 44 quindi testa salvato e valido fino al 21 dicembre ok e la foto è corretta controlliamo la roba quindi maiale 1 3 polli e una capra aspetti qui allora dobbiamo intanto scaricare tutto tutto quanto a quanto pare vabbè c'era bisogno di scaricarlo in verità se vedeva insomma scusi i polli rimettiamo lì dentro sono tre polli se vedevano insomma ciccio scusi eh se l'entro non la interrompo sempre da parte staff come è questo rimette i polli a posto allora abbiamo detto che carico confermato un maiale e ci siamo tre una capra e ci siamo tre polli e ci siamo signore direi che ci siamo tutto tutto a posto direi aspetta un attimo qui nel motore se magari c'è qualcosa che questa si z non c'era niente a riguardo no vwe niente signore direi che in regola può benissimo andare abbiamo finito approvato vai eh beh carico non c'è bisogno di un cazzasse ma mia che gente e che cos'è vai al prossimo non lo so eh e che cos'è salve allora controlliamo un attimo i gommi sembravo da dar meccanico facciamo una controllatina e pressioni se mi sembra un a posto lei da tu aspetta un attimo com'è la targa ynd questa era vwe mi pare sì quindi niente anche lei è a posto qualcosa da scambiare e allora questo compra sigarette ai sacchi vedi ce l'avevamo uno me l'ho pure scordato da vecchia roba sacco di patate ben 3 dollari vabbè devo venderti e tanto non ci faccio niente le sigarette in cello questo mentre prende eh detezione un po' le vodka liscia 71 dollari e capirai si ma le dia i documenti eh che cavolo allora Mirlan Atayev ok e qui per lavoro 0178 pj31 vediamo un po' quanti anni ha questo 38 quindi non è lui 5 agosto va bene e la riscadenza 15 settembre ma va bene ugualmente ok controllatina veloce mi scusi se guardo sta facendo forte inформazione che cazzo succede che cazzo succede oh 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 ooh E' finita l'attac... attenzione ma io non c'è caricatori aspetta cazzo c'è la pistola senza caricatori aspetta e niente non ce la manco qua come me difendo scusate parca traccia vedi caricatori da dame lo so che c'è bisogno dei cure aspetta eccoli letta ricarica no attenzione qui nostro amico oh pure c'è la bomba questi mazza che merda e mori chi è? mi chiamano il cecchino migliore del west qui occhio ci basta e poi non l'ho capito c'è la recensione ovunque a meno che da sto lato non so com'è stato costruito sto posto frazioni banda di operankov gruppo criminale organizzato che opera nella zona di karikatka sono coinvolti nel contrabbando nel traffico di armi o nel rapimento a scopo di riscatto sono in costante conflitto con la polizia della karistan pugno di sangue movimento di resistenza antigovernativo guidato di michael garin il loro obiettivo è liberare l'arcanista dalle mani dei comunisti negli ultimi anni sono riusciti a penetrare in profondità negli organi dello stato i bastardi di arcan ci attaccano di nuovo questa volta ce l'hai fatta ma si prudente perché gli attacchi dovrebbero aumentare aspetta però artizio considera l'accusso di nuove armi e l'adeguamento dei tuoi subordinati per garantire la sicurezza della postazione e beh quindi quello che avevamo preso i documenti sarà nato perché era l'imboschiata aspetta un attimo ma artizio che stava qua per terra come sta ora? eh se non è nato ma dove dove è nato? scusi l'hanno portato in infermeria come funziona scusa eh quello là sopra? ok eh non lo so dove è finito il tizio? non farà che cioè mi è morto in sta apposta così? scusa dove è nato? eh aggiorno eh questo ce manca praticamente non lo so questa aggiorna ah vedi gli è da eh micchia passa da normale a mitragliatrice e più la salute è più alta per 350 dollari vai piglialo scusate ok non so dove stava forse ce lo ritaranno quando l'avranno finito di cura vabbè proseguiamo guarda vedete questo posto è c'è tutta la recensione là ci sono le montagne quindi sei parato tutta la recensione e lì non c'è niente beh mettiamo la recensione no? salve signore scusi ma ci abbiamo avuto del movimento prima allora salve lei che porta intanto? che cosa scambia? la vodka liscia vedi la vendeva con l'artutizio ma non l'ho comprata eh media documenti un attimo allora aspetta un attimo tu che targa c'hai? ok non sei te foto ok età di nascita 41 anni e non 44 Mirlav Kuliev Mirlav Kuliev questo sembra corretto Mirlav Kuliev anche P91K W1XZ perfetto però questo viene dal regno di Archei e mi spiace ma non posso farlo entrare controlliamo comunque la roba che c'ha signore deve scendere un attimo lui dichiara tre bagagli e due polli a parte che questi partano i polli così dentro al bagagliaio vabbè uno due e tre ok già che c'è stata una controllatina anche all'UAV ok allora la dichiarazione è corretta ma mi spiace signore lei per via del decreto bla 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 non può entrare metti l'anima in pace ma non può entrare regole di ingresso il resto è tutto tutto corretto ma non può entrare mi spiace eh lo so mi spiace a chi lo dice ma hanno sparato non lo so che volevo faggare a chi ha avuto a giurata de merda signore non lo so ci hanno assaltato beh non lo so se ne vada ed è finito il tizio ah eccolo è tornato chi è guardate bello ora con la quella cosa poi siamo stati promossi addirittura maggiore ricompensa per ispezione e poi chiamare vlado per far venire con i suoi attrezzi ah ottimo chi è ma come sei sghiargiante adesso eh caporale apposta sì quello sopra è ancora vivo certo quello sopra che ha la pistoletta ci vorrebbe un bel fucile da cecchino quindi adesso telefono di servizio d'ora in poi potrei ordinare dal negozio mobile di vlado il negozio sarà disponibile fino alla fine della giornata lavorativo di erno lo troverai presso il garage della polizia avanza per poter ordinare il trasporto di prigionieri delle marce di contrabbando ok quindi ora potrei semplicemente chiamare il tizio e che cazzo non vorrevo chiamare vabbè vabbè pensavo mi aprisse la scherbata del vendor invece no lo chiami e arriva lui col furgonceno aspetta eh voglio andare a vedere ma che l'ho chiamato qualcosa prendiamocelo salve eh è bella così la vita eh allora eh questo pacchetto da caffè 56 però me lo tengo uguale no mi servono le armi perché qui abbiamo pochi proiettili più che altro questo fucile non è male mitragliatrice munizioni per mitra 30 dollari oh 1.3 capirai 700 vabbè finiamoci sti sti controlli che oggi è stata una giornata movimentata venga venga noi dobbiamo ancora cercare di scovare questi in verità eh allora questa targa non è finita signor che cazzo vuole cazzo vuole cioè questo manco chiede di niente e già arriva che gli documenti aspetta aspetta ma che te corri allora intanto fammi controllare che porti beh due maiali ok cioè non manco gli ho detto niente questo giacchi i documenti ma insospettisce la questione eh mi dai più i documenti tutto a posto lo verifico io allora due maiali sono due maiali regno di archei no no non mi spiace signore arel musev ok 96 3 g 0 f j 0 è corretto valido fino al primo novembre è corretto scadenza 3 giugno va bene c'è 44 anni no ce n'è 38 ma visto che vieni da archei non puoi entrare mi dispiace vediamo un po' se la la foto è quella sì è quella mi dispiace signore ma non puoi entrare eh già eh già purtroppo è così vai questo questo c'è la 500 che c'ha da sopra ok questo chi è salve spezione perfetta mi danno 130 con quella perfetta che cazzo è successo a sta gomma c'è qualche problema tecnico tattico devo cercare di capire se sto liscio a me no c'è non so c'è sta cosa qui che non ho ben capito che cos'è salve fatti che contro mazza roba allora mi dia i documenti per cortesia e allora lei è eliz sirgiev ok eliz sirpeyev ic7f fw82 ok valido fino al 14 maggio ok per caso lei ha 44 anni no c'era 56 allora bagagli 8 e sapone 2 addirittura può scendere per cortesia scusi ma devo controllare quello che ha andiamo dentro no non me lo fa ok 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 mazza roba altro che 4 scusa scusi si svolga un attimo ok c'era qualcosa pure nel motore no ok non so magari ne aveva ficcata un'altra pure là allora bagagli 8 sapone 2 signore ok giustamente scusi lei è qui per nome 10 direi che è tutto a posto signore la foto è lei direi che può andare si goda il soggiorno nel paese aspetta non ho vista la targa porca trota ux ok non è questa meno male se no avevo fatto dei danni gravi vada vada ma no come criminale fuggito ma no luogo in cui una scossa da minuccia di contrabbando schienale del sedere del passeggero seduta del passeggero fondo del bagagliaio bagagli bagagli ma porca trota ho accannato proprio all'inesima potenza ha contrabbandato merce attraverso il confine dannazione questo è un colpo durissimo scusa qual era quello che stava qui e c'erano tre di questi vabbè capita avevamo sbagliato a sto giro era quello delle tre gomme lisce forse quella cosetta che si vedeva dei gomme erano le gomme lisce non lo so mi sa che la traduzione era un po un po strana vabbè come come si dice pure un tenore può fare una stecca allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui la giornata è terminata direi che possiamo andarci anche a riposare purtroppo ci ha scalato per una fracca di sordi per questo errore che non ci voleva proprio non ci voleva proprio costo giornaliero 200 dollari abbiamo pure speso per migliorare il nostro poliziotto insomma quindi abbiamo investito 317 dollari devo prestare attenzione perché iniziamo insomma a stare un pochettino a corto di soldi allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo se vi fa piacere lasciatemi un mi piace un commentino iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto poi in descrizione trovate link a tutti i miei social al server discord e alla mia attrezzatura e in alto a destra c'è lì che vi riporta a playlist del titolo se avete saltato qualche appuntamento io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao